E' scomparso all'età di 83 anni Antonio Falconio, presidente della regione Abruzzo dal 1995 al 2000. Falconio, giornalista politico originario di Navelli, viveva a Roma ed è stato un dirigente di spicco della democrazia cristiana. Il presidente Marsiglio, in un messaggio di cordoglio, ha ricordato la figura di Falconio. A nome mio e dell'intera giunta regionale, ha scritto, esprimo ai suoi familiari il profondo cordoglio per la perdita di una persona che ha saputo condurre un'importante attività amministrativa, tesa a far crescere e a valorizzare la nostra regione.